Buona domenica ed eccoci anche oggi ritrovati al quotidiano spazio dedicato all'informazione. Come on guys. Come on guys. D, C, E, Z, K. Cosa ti senti? Non riesco a far entrare l'aria un po' abito. È un problema solamente che sia un po' ansioso, che sia un po' in tensione. Tutto questo ti faccia tanta rabbia, ti faccia un vuoto nello stomaco, un buco. In tua posizione, mio amico, hello? Hello? Hello?